Questa mattina i carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno notificato un decreto di amministrazione giudiziaria emesso dalla sessione misure di prevenzione del Tribunale di Catania su richiesta della locale procura distrettuale nei confronti di Raffaele Giuseppe Nicotra, già sindaco del Comune di Acicatena ed ex deputato della Regione Siciliana nonché di suoi stretti congiunti, afferente nove società, tutte operanti nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di generi alimentari della elaborazione di dati contabili, amministrativi e commerciali e della compravendita di immobili Le indagini patrimoniali condotte dal Nucleo Investigativo Carabinieri di Catania hanno documentato come la gestione del complesso imprenditoriale il cui volume di affari complessivo ammonta ad oltre 30 milioni di euro fosse stato orientato alla agevolazione degli interessi criminali della famiglia di Cosa Nostra Etnea Santa Paola Ercolano fra le società oggetto dell'odierno provvedimento ne figura una che in particolare gestisce 11 supermercati dislocati in tutta la provincia di Catania Grazie mille! Grazie a tutti